E' una partita 2v2 e apriremo due casse, qui in nostra compagnia c'è Rikki, oggi apriremo un uovo d'oro e una cassa che non so quale, intanto apriamo l'uovo d'oro, vediamo cosa troviamo, attenzione, epica, le fireplug veniciatore seguita, verdi, brutte, mi piace, no, no, sono verdi, poi ci apriamo, ah si, ma abbiamo un cenato a cosa, cosa ti apri, stupenda meraviglia, si, blu, rip, octane vaporwave, brutto, brutto, vabbè ragazze, ma quale è una nuova cassa, si, c'è stopening un poco brutto, ora possiamo avviare le 2v2, di che avvia, guarda, ho le su地 ruote. Scorto la prova libera dell'allenamento. Si. Allora ti vedo pure io. Non ho trotato la partita. Io forse sono riservata. ora siamo nel dfh stadium di giorno bella bella siamo con contro luca e wabwis32 sono dei premade poi non ho capito mai che cosa vuol dire premade forse amici tre fatti tre made si lo so made lo so fabbricato nooo non è entrata peccato eh franzo l'ho andato per sbagliare la porta bene fuori bella sono senza busto fuori si ok bella bella bravo in questo caso beccato per l'azione peccato per l'azione di prima eh si in questo caso gli ho fatto il gol gli ho fatto un fake e lui c'è cascato lui si aspettava un pallonetto vado io lui 50 50 vinto da me nooo ori mamma mia ho sbagliato va bene no fa nulla fa nulla non tu ori ci sei tu bello ho già le bigurbo questi se la passano tiro tiro nooo hai visto palo palo traversa linea vabbè spazzato torniamo per chi cosa se la buttata fuori eh voleva dancarmi nooo come ho fatto spazzata ok bella grandissimo dell'haven grazie grazie ragazzi vi ricordo di mettere like commentare e iscrivervi e a 5 no 7 like prossimo video di rocket league con ricky o fabbri o qualcun altro che dici nooo però molto probabilmente ricky che per ora è presente in tutti i video ecco ecco mi ha messo in mezzo prova a tirarla bella grazie il passaggio solo lol l'ho detta apposta infatti bella ragazzi se questo video vi è piaciuto sette like prossimo video di rocket league mi raccomando iscrivetevi lasciate like commentate attivate la campanella un saluto da ricky e gabrie bella grazie a tutti i che non aspetta come aspetta a in Grazie a tutti.